Il sindacato scende in pista per salvaguardare le 5 dipendenti della CSP, la società che gestisce il centro commerciale Conforama a Melilli. Il segretario della FISA SCAT, Teresa Pintacorona, bolla come inaccettabile comportamento l'invio di lettere di contestazione disciplinare da parte di CSP alle 5 dipendenti addette al servizio di polizia all'interno del centro commerciale Conforama di Melilli. In contesta di aver scioperato, aggiunge Pintacorona, la CSP mette in discussione il diritto allo sciopero e tra l'altro accusa le lavoratrici di aver ostacolato l'ingresso di altri dipendenti all'interno della struttura e che denotano un atteggiamento vessatorio e intimidatorio nei confronti di chi, come previsto dalla nostra Costituzione e dalla legge, manifesta per i propri diritti. Non giova inoltre, continua la segretaria della FISA SCAT, il comportamento di Conforama. Alla committente avevamo chiesto di conoscere i capitolati d'appalto, due negli ultimi anni, con la CSP per verificare i motivi che hanno indotto questa società cooperativa a ridurre l'orario di lavoro, contravvenendo al contratto siglato. Conforama si è rifiutata di fornire questi dati e si è limitata a scrivere che nell'ambito di un processo di contenimento dei propri costi ha negoziato con CSP una revisione di servizi e quindi la riduzione del corrispettivo di circa il 20%. Una risposta che non ci soddisfa, ha concluso Pintacorona, e che non rende merito a Conforama. In questa vicenda avremmo sperato in un atteggiamento diverso e che tutelasse le lavoratrici. Evidentemente, per alcune aziende, i valori del lavoro, del rispetto degli accordi e delle relazioni sindacali sono piccoli dettagli. Non è così, lo ricordiamo proprio a loro per questo sindacato che continuerà a difendere le lavoratrici e a fare in modo che la loro dignità non venga calpestata in alcun modo e da nessuno.